per bene quindi sono messo bene bene un barrico dietro ora giudicino match scala adesso un po più sempre scala non so per te mi capo più un attimo guarda le cam hanno rotto le cammi allora portatore c'è ancora certo lo copro su ti dico se arrivano ok è rimasto dall'altra parte guarda la cammeta scala sempre lì è sceso ti sta pushando si sta pushando e lì accovacciato stanno dall'altra parte della porta nella porta nella porta tutto sappiamo tutto tranne il morto ma sinceramente del morto mi che me ne si è contato uno che ho visto dai piedi ho paura che corro e poi anche le trappole non perciò come una media godo franca godo non so perché si traccia una chi l'ora meglio per prenderci per il solo però non ha capito che hanno appena perso malissimo c'è non siamo qui per riuscire da me l'esplorato completamente c'è nessuno nessuno io guardo il quadro in cifo a noi dove la ecce quando principale finestrone con le finestre grandi controllo di sconnesso controllo di sconnesso controllo di sconnesso sino cascini di bg occhio occhio finestre qui magari da lì per aver usato un colpo allora metti un'altra clevo no 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 metti la cresce mette acqua ok quando sentiamo spaccare sotto guardiamo non guardiamo sotto per aver utilizzato ha distrutto è vero occhio bagno c'è una versione ma ma mi ha toccato 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 lecate lecce lecce ok il tuo bambino il mio ti dico io si sono da scala che è dalle tue intendo non dalle mie 8 due entri a cacciare si ma stanno non bravo giù mannaccia mannaccia ho intanto per me ho intanto per me ho intanto per me conto ho intanto per me ho intanto per me non lo so sono sono in attacco in difesa facciamo altamente cagare vede localizzare disinnescare non posso dove stanno dove stanno è in cucina perchè non l'hai spottato non lo so vado a spottare aspetto non l'ho spottato hai trovato una bomba arrivo aspetto in giugno dove cazzo sei andato guardate vendite sono incostrato anche e or nasi cosa 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 o niente da me da me c'è perché per sbaglio si dica sfondato sì eccolo che chi di merda trova bene questo come più risponci barricata porta in arrivo non è proprio dalla mia propria non hai capito no è fratta di arda perché non c'è da qui non hanno una bobbè bella a bestia questo ci stavate ma è una battaglia rotto perché al sistema di difesa attivo non so perché c'è anche una granata no no fra c'è uno di vita mortale però l'ho aiutato so che fare un po' della cacchina 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 qui un po' della cacchina no se mi fai un wallbang guarda ultimo attaccante è rimasto in via si si ti venga ti venga scusa 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 adesso vi dico wow you so bad no no non gli scrivo niente però io gli vado a parlare dico wow you so bad wow ho fatto veramente schifo no 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 you so bad vuol dire tipo noob la stessa cosa no 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 no